Ti porta decisamente bene questo campo, avevi già segnato in passato, oggi una doppietta e hai regalato tre punti importanti all'Inter. Sì, soprattutto più che pensare a aver segnato tre o quattro anni fa, non mi ricordo bene, c'era la voglia di far bene, di vincere, l'anno scorso qua avevamo subito una sconfitta e quindi la idea era non ripetere. Che cosa è cambiato con l'arrivo di Leonardo? Avete fatto due vittorie in altrettante gare, questa in rimonta? Sì, innanzitutto dobbiamo ricordare che già senza Leo abbiamo vinto il Mondiale per Club, avendo ritrovati tutti i giocatori, che questo è un motivo di gioia, lo parlavamo anche nel pre-Mondiale per Club, di dire che allenare tutti insieme sembrava una cosa che non succedeva da tanto tempo, quindi adesso sono tutti gli uomini a disposizione, Leo sicuramente ci ha dato una marcia in più perché lui ha tanta voglia, perché lui arriva con tanta illusione e credo che questo è riuscito a trasmetterla, però ancora manca tanto. Avete però recuperato due punti al Milan? Abbiamo fatto tre punti che rispetto al campionato scorso non li avevamo fatti, quindi noi dobbiamo pensare alla nostra corsa, poi i risultati che si danno in altri campi non possiamo fare nulla, quindi pensiamo ai nostri risultati, alle nostre partite, poi vediamo dove riusciremo a finire.